Uè, fuck, ho morto, vabbè, allora, sono Gross e qua c'è Code Ghost per Wii U, gioco carino, e allora, Miss, vaffanculo, allora, adesso vi darò le mie impressioni su sto gioco, l'ho preso al day one, questo video è di oggi, ma non so che giorno è oggi, vabbè, allora, è il giorno dopo, quindi il 6, vabbè, non so quando caricherò questo video, ma vabbè, è uno, allora, l'ho preso al day one, la sera, e tipo ho giocato soltanto contro i bot, perciò, vaffanculo, questo è il mio primo giorno vero di gioco, non so a che livello sono, ma dettagli, Questa mappa mi sembrava tipo raid, la gente spunna alla porta lì e basta, vabbè, e questo è un gameplay con lo sniper, siamo su Wii U, non c'è l'audio, peccato per voi, tanto non vi interessa, mi rimetterò una canzone figa in background, Allora, adesso, le mie impressioni su sto gioco, le mappe, le mappe, le mappe, sono giganti, sono giganti, sono giganti 2, no, hitmarker, sono giganti e non si trova un nemico, Anche se corri tipo per 10 minuti, è strano, la prossima, no, e allora non mi piace sto fatto perché tipo sembra battlefield, a me non piace battlefield, triple feed, split, vabbè, Eeeh, non si trova, intanto è 6v6, e a me sta cosa non va bene, cioè, potevano mettere anche guerre del resto, no, invece l'hanno tolta, vabbè, non parlo, la gente spuna qua, vedete, e non spuna più, Comunque, sta mappa sembra raid, per, per la formazione, perciò, spawn di qua e spawn di là, e basta, c'è la porta, li prendi facilmente, se spuna qualcuno, e poi, per tipo la grafica, questi colori qua, sembra dome, perciò, sta mappa è una delle più piccole, e si trovano pochi nemici, se muore. Fermati, lol, allora, mmm, poi un'altra cosa, un'altra cosa, sono le armi, i giacchini one shot, no, e questa cosa mi piace, mi gusta, e adesso sto usando, vabbè, sto usando l'usr, con caricatori aumentati, e, e non so cosa altro, sto usando, ah, la canna cromata, il chrome lined, E nulla, mimetica autunno, carina, niente, il coso che sembra la cpu di black hole 2, non è la cpu, io c'ho la timbo di secondaria, grazie, e, allora, Poi, poi, dicevo, gli sniper shot, no, c'è l'L-115, se non sbaglio, che è praticamente l'L-118 di Mv3, QSR, che è la copia fatta male dell'MSR, poi gli altri sniper sono tipo il Lynx, che è una S-50 barra Barrett, barra Barrett è un gioco figo di parole, vabbè, E poi il Lynx, no, ho detto il Lynx, e poi c'è il VKS, se non sbaglio, che è uno sniper che spraya, fa qualche hit marker, ma, L'incirca il danno è come il DSR, uno, o il throw the smoke, non c'è nessun altro, vabbè, quindi gli sniper shot, no, non si trovano nemici, Le mappe sono giganti, cos'altro da dirvi alle serie di uccisioni, hanno reintrodotto supporto al specialista, perché a me solo assalto non mi gustava, E una cosa che non mi piace delle serie di uccisioni sono il SATCOM, che è praticamente un UAV strano, cioè nei vecchi code UAV e poi vedi i nemici sulle mappe subito, Qua invece tipo se ne tiri uno, cioè ogni nemico che vedi lo prendi, cioè no, cosa ci fai? Ah, appena lo vedi poi lo vedi pure sul radar, Cioè come adesso, però non lo so se c'è, non lo so, vabbè, appena lo vedi poi compare sul radar, però non è che ti si vedono tutti, a me non piace sta cosa, E poi, io uso supporto su tutte le classi dello sniper, non so perché qua c'è soltanto l'oracle, comunque di solito uso il SATCOM, Che è l'UAV che vi ho detto prima, cioè non è un UAV ma è brutto, quello lì, e poi cosa ci metto? Ci metto Night Owl, che è praticamente una specie di UFO, piccolino, una palla, Una palla volante, che ti segue, e tipo, che ti fa, ah ti fa vedere, o muore, ti fa vedere i nemici sulla mappa, tipo radar portatile, che ti segue, E poi, ah no, funziona anche come trofi, quindi è abbastanza utile dare una granata, e poi l'oracle che l'ho preso ora, a quattro ore, cane di merda, L'oracle è una specie di Wallach, ogni tipo, cinque secondi credo, ti fa vedere i nemici sul coso, normale, cioè come è successo, cane di merda, E praticamente Wallach ogni cinque secondi, te li fa vedere, buono, è carino, cioè per esempio, sei a uno, due, tre, per fare la quad, ti fa vedere quell'altro, E tipo dietro un muro, hai Wallbang, e mi crasha, vabbè io c'ho sti problemi, vabbè, ci si vede la prossima, qui ai Gross, fate un'altra partita, vabbè, ciao!